Game 3 ancora una volta caro soul, se non erro è la terza serie su quattro disputate che andrà a Game 3 con la sola eccezione dello scontro dal quale uscì Trionfante Manny, quindi molto molto combattute queste serie a testimonianza del fatto che c'è già un discreto grasp delle meccaniche da torneo da parte dei giocatori, dato che è capitato così rado che uno venisse sopraffatto. E sono molto contento di star vedendo una line-up molto diversa dalla cozzaglia di top tier da ladder che abbiamo visto proposta, giustamente perché anche in essa è racchiuso molto power level, ma che sta pilotando brillantemente Atomino con un'idea ben chiara in mente, quella di rendere difficile la vita a control. Ma a questo punto il match-up che stavamo aspettando da tutta la sera, io e te praticamente, guarda se ci troviamo davanti da commentare, che bello che è questo, quanto siamo lontani dal meta. Sarebbe molto bello, sarebbe molto bello perché effettivamente ben discostato dal metagame corrente, se non fosse che il mio pronostico è totalmente in favore di Atomino. Abbiamo già detto come il mazzo di Dykos si comporti molto, ma molto bene contro gli swarm aggressivi che possono essere rappresentati da un mid-range banner mande matcha su tutti, prendendo ad esempio un mazzo molto forte di questo metagame. Ma abbiamo già evidenziato come il mazzo di Dykos manchi proprio di mordente per contestare una strata anti-control, per lui che è così reattivo sul board. Cosa deve fare Dykos secondo te per vincere questo match-up? Perché per me ha davvero ben poche soluzioni. Dykos come hai detto tu prima, deve fare quello che ha fatto Aymer nel match-up in cui perdeva il late game, deve giocare come un mid-range a tutti gli effetti, deve aggredire l'avversario. E questo è un ottimo inizio tra l'altro, questo parlet per andare a tastare il campo dell'avversario e dire, ok io ti comincio a fare un danno, vediamo se tu hai un pezzo. Atomino tra l'altro intelligentissimo passo per non rivelare la presenza di un pezzo da parte sua, che vedrà solamente la luce adesso per rispondere alla giocata di Dykos. Yes, molto brillante la gestione della mana di Atomino che non ha voluto subito rivelare la carta che aveva a disposizione e i blocchi, anche perché avrebbe bancato 2 più 3 allo scoccare del turno dopo, 5 mana ideali per il Withering Whale, la giocata più costosa che aveva in mano. Quindi a partire da quest'idea ha fatto una giocata che ha insidiato Dykos che adesso non può nemmeno andare a portare due danni, pardon, sì, perché decide Atomino di non bloccare. Molto strano, non trovi? Strano, ma il motivo è che Atomino vuole andare chiaramente a minacciare il barile, è quella l'idea, sta sacrificando HP per minacciare il barile e ti dirò di più, è una giocata giusta, anche se può suonare strana, perché Atomino dà la sua alle isole ombra, ha delle rimozioni molto efficienti e soprattutto delle rimozioni che ti vanno a curare. Di conseguenza, perdere quei 2-3 HP i primi turni dà quasi value alle carte che andrai a pagare molto nell'avanzare della partita, qualora l'Atomino non riesca effettivamente a metterti danni perché tu lo controlli molto bene. Quindi, accettabile la giocata, è andato a togliere un barile e Dykos non se l'è sentita di sfruttare l'effetto del barile attivandolo in qualche modo. Ha deciso di accettare questo trade, quindi 2 danni per un barile, probabilmente ne è valsa la pena. E si è dato anche uno scopo per questo TF che non avrebbe potuto fare attune più pesca una carta, o meglio avrebbe potuto per pescare una carta, ma avrebbe sprecato la parte di attune dell'effetto carta blu, visto che ha già tre mana da parte nella banca delle spell. Di conseguenza sta legittimando, non avendo traddato quel 2-1 in alcun modo, la carta rossa, suppongo io. Ed è proprio così. È proprio così, è un'attivazione che dà un buon valore e l'avversario però ha pescato Maokai. Volevo giusto dire in questo momento che la cosa che poteva dare chance a Dykos di avere la meglio in un matchup del genere era proprio il fatto che l'avversario non ha trovato Maokai. Penso molto difficile da rimuovere per il suo deck. Maokai che però mi sa prenderà vita già da questo momento, perché dubito che l'avversario abbia paura dei tre mana di Dykos in questo momento. Potrebbe accettare di farsi passare 4 danni, danni che potrebbero davvero diventare pesanti da sostenere magari perché stiamo scendendo a 12, ma a tutti gli effetti il prossimo turno noi andiamo a schierare non solo un pezzo con l'avestil, ma anche una pignetta con sfidante che va a minacciare il Twisted Fate di Dykos. E quindi con lungimiranza vede un turno a 5 molto roseo a Tomino dalla sua. Sono d'accordo e stiamo infatti raccogliendo i frutti di questo Maokai che non si sente giustamente di mettere ai blocchi, molto bravo Tomino a non cascare nel bait. Se l'avversario mi dichiarà questo combat è perché probabilmente qualcosa a supporto di queste unità in combattimento ce l'ha, mentre io sono assolutamente a piedi. Quindi aspetta di vedere l'alba del proprio turno 5, va a giocare il primo lifesteal che genera un altro toss da due e un germoglio con Challenger che sarà sulla carta in grado di occuparsi di questo Twisted Fate. Esatto, esatto. E qua c'è poco da fare per Dykos. Potenzialmente potrebbe usare una trasfusione per salvarsi Twisted Fate che, oddio, vedendo la mano dell'avversario, io quella trasfusione per salvare TF la farei perché so che l'avversario non ha una risposta facile per andarmi a togliere quel TF, ma Dykos lo sa, appunto Atomino schiera l'Isule Ombra a tutte le rimozioni del mondo e Dykos in mano non ha peschini, quindi non ha modo di fidare la condizione di evoluzione di Twisted Fate. Dalla sua io non so quanto mi sentirei di salvarlo. C'è anche da dire che, al momento, non ha altro che queste magie dalla sua, quindi se non comincia a dargli valore rischia di rimanere un po' a piedi in termini di utilità delle sue carte. E' dello stesso avviso Dykos che infatti accetta di perdere TF per mano di questo diabolico germoglio 2-1 Challenger, uno strumento molto forte che dà veramente un grosso respiro, lo dicevi prima giustamente tu, ai Maokai Deck, anche nelle fasi di early mid-game. Spesso i mazzi aggressivi tendono a voler condurre la fase di combat, come dicono loro, ripulendoti il board prima magari, mentre avere dei Challenger sembra avere tutt'altro a che fare con la gestione degli agri, invece è molto molto forte, va proprio a rompere l'aggressione ideale per l'avversario. E in un certo senso l'abbiamo visto anche in questo matchup, perché Tumino sta indiscutibilmente giocando la parte del difensore. Assolutamente, e qua tra l'altro buona la giocata di Dykos che va a togliere l'unico parante possibile per Swain che ricordiamo avere temibile, e di conseguenza se Swain passa non mette solo 3 danni, perché nelle zone del suo kit annovera la dicitura che ogni volta che colpisce il Nexus infligge ben 3 danni al Nexus stesso, e di conseguenza qua vediamo non poco danno entrare da parte di Swain. Potrebbe addirittura tentare una giocata estremamente aggressiva e puntare a chiudere il game qui. Io lo farei! E invece tridare Maokai. Attenzione, invece punta tridare Maokai. Forse gridi, ma pensiamoci bene, l'avversario ha sette mana, ok, potrebbe avere vendetta. Vendetta era letteralmente l'unica carta che fugava la possibilità di fare l'Italia in questo momento, oppure forzava l'avversario a usare 5 di quei mana, come avrebbe fatto in questo caso ad esempio con il Lamento Vanescente, o con una presa dell'Immortale per andare a danneggiarci uno Swain fiddatissimo che andava a mettere una pressione incredibile sull'avversario a quel punto. Poteva essere plausibile, non l'ha fatto, accettabile per quanto mi riguarda, era uno svarione momentaneo che poteva portarlo alla vittoria. C'è la possibilità di sottrarre questo Swain alle grinfie del pesciolone 7-7, portando i suoi punti vita temporaneamente a 7, negando quindi questo obliterate. Cosa faresti tu Sol? Assolutamente lo farei perché siamo appunto a corto di risorse per Dykos contro invece il mazzo del suo avversario che al momento e nel momento rosio della sua partita, ha raggiunto le profondità, ha giocato un pesce che a questo punto non vedrà risolvere il suo effetto, ma comunque ha un valore eccezionale in board, perché comunque un 7-7 e il prossimo turno vedremo entrare in campo Nautilus, il Palombaro 13-13. Palombaro 13-13 di difficile risoluzione data la mano molto esigua di Dykos. Non so se, volendo dare già un pronostico, non vedo la possibilità, ma neanche col top deck di Notion Guillotine, di liberarsi di quel Nautilus, perché manca l'attivatore, manca qualcosa che ferisca, ecco l'ho chiamata in modo molto profetico, mancano proprio gli strumenti per andare a infliggere prima danno al Nautilus e poi, in virtù del fatto che è danneggiato, procedere con l'esecuzione, con la ghigliottina sulla sua capoccia da Palombaro. È davvero una situazione dalla quale non vedo Dykos uscire nell'immediato. Eh già, l'unico attivatore che c'è per arrivare a mettere questa ghigliottina, che è l'unico modo che può avere il deck di Dykos per rimuovere Nautilus, come hai detto tu, è pararlo con Swain. Non ha troppe altre scelte, era solo quello, avendo un altro Swain in mano non è neanche una giocata così terribile. L'unica cosa che mi fa presagire una possibile vittoria di Dykos è questo allineamento dei pianeti sul turno 7, nell'ottenere, sul turno 8, cioè sul prossimo turno, nell'ottenere 8 mana, e in un eventuale, e non male, top deck di Leviatano. Leviatano che immagino sia presente nella lista di Dykos, fortissimo, almeno in duplice copia, potrebbe davvero togliergli le castagne dal fuoco in questo caso. Servono diverse top deckate per Dykos per uscire da questa morsa letale dei Sea Monsters di Atomino. Non so quanto confident sarei nello schierare il mio Nautilus, quindi comprendo l'esitazione proprio di Atomino, visto che comunque l'avversario trattasi di contro il deck, può banalmente arrivare a una combinazione di ferire il Nautilus più Noxhan Guillotine, dalla quale Atomino si sta guardando molto bene. A questo punto la giocata più interessante che funge da slalom in mezzo a una rimozione facile sul single target, mi pare proprio quella dello schierare il mio pesciolo nel 5-mana 6-6, c'è anche però il pericolo di finire a 0 mana contro un avversario che di mana ne ha 7, per cui comprendo benissimo la linea per cui Atomino cede l'iniziativa e accetta l'inizio di un nuovo turno. A questo punto i danni sono veramente tanti. Swain va a stunnare però, e qui la giocata è difficile. Attenzione! Sarà sufficiente al lethal damage? Abbiamo Grasp, Puglamento Vanescente... No, è vivo! È vivo a patto che usi l'atrocity per pulire Swain. Swain non deve passare. Io ero un fan della giocata di Nautilus il turno precedente, sinceramente, perché con 7 mana cosa può fare davvero il mazzo di Daikos per andarlo a rimuovere? Molto difficile e soprattutto perché dalla sua avrebbe avuto l'atrocità e quindi andava a minacciare direttamente il Nexus dell'avversario. L'avrei giocata diversamente al posto di Atomino e qui si trova in una situazione difficile, di nuovo messo alle strette da questi colpo d'avvertimento che hanno un valore incredibile nel mazzo di Daikos. Io non ho mai... non mi sono mai trovato in una situazione a dire wow, colpo di avvertimento così tanto pericoloso, accidenti, è la seconda partita che... E normalmente... Attenzione! Vedi colpo di sol, perdonami. Sono molto stordito da questo turno perché è chiaro che far vedere all'avversario che sta dichiarando una pila di questo tipo per 11 mana nel 90% dei casi sarebbe una sentenza di morte, invece stiamo assistendo a uno scenario stranissimo in cui questa giocata significa salvezza per Atomino e significa non solo salvezza ma significa poter andare a giocare il prossimo turno con otto mano a propria disposizione, forti del fatto che l'avversario ha una sola carta in mano, pardon 2 vista del top deck, siamo ancora in game e non ci sto credendo che è così. E' incredibile, è difficile dire cosa stiano sbagliando i due giocatori sempre per il fatto che noi vediamo le carte in mano di entrambi i giocatori, chiaramente lo spot di Nautilus e Atrocità era ottimo ma la giocata conservativa di Atomino come hai detto tu aveva assolutamente un suo perché, giocava attorno alla possibilità di avere una risposta singola dell'avversario che l'avrebbe esposto ad una little quasi fatta in bordo come abbiamo visto grazie agli stun del colpo d'avvertimento. E qua la partita diventa ancora più tesa e lo stun di Swain andrà a proteggere Daikos da una potenziale aggressione di Atomino nuovamente. Che l'avrebbe forzato a bloccare con Swain in virtù del fatto che questo Nautilus oltre a essere un 13-13 e pure Fearsome è adesso scelta importantissima, letteralmente una scelta tra due carte ed è un bivio gigantesco. Portare questo 2-7-7 a obliterare la 2-2 potrebbe non significare molto, potrebbe significare molto di più andare a topdeckare una carta in virtù di questo Nexus Strike che può operare l'avvissalai. E quindi finita sta optando forse per l'avvissalai. Di fatto al prossimo turno serve un topdeck a Daikos per poter minacciare gli ultimi due punti vita di Atomino. Quale può essere questo topdeck se non Noxhan Fervor? Potrebbe essere proprio Noxhan Fervor perché un Leviatano in questo caso non andrebbe a risolvere nulla siccome Atomino ha in mano un altro Nautilus che si trasforma nella sua versione Spell che a costo 4 va non solo a stunnare un avversario ma a rimescolarlo nel mazzo. E di conseguenza il Leviatano sarebbe una giocata totalmente sprecata. Leviatano che peraltro non arriva e nemmeno Noxhan Fervor. Topdeck a vuoto Noxhan Fervor che sarebbe stato chiaramente punito dal colpo d'ancora di Nautilus che avrebbe rimescolato l'appoggio necessario al Fervor. Per venire attivato nel mazzo e dunque game apertissimo, game che però sta volgendo al termine in virtù del fatto che nella mano e nel board di Atomino ci sono bocche da fuoco di un certo calibro. Mentre nella mano di Daikos il nulla, palla di Rovin nel deserto texano. Totalmente, non ha modo di passare questi muri invalicabili che ha calato Atomino e si è verificato proprio quello che hai detto. La line up anti-control ha fatto quello che poteva ma ci troviamo con un Nautilus, un Nautilus sviluppato ed è molto molto complesso da risolvere qua. Non vedo davvero la soluzione. Un Noxhan Fervor potrebbe dare quella possibilità ma come abbiamo visto c'è la spella in mano. C'è pure un topdeck di cure come se servisse e non c'è soluzione alla presentazione di questo massiccio attacco. Tanto che Daikos procede con lo skipare blocco a accettare questi 19 danni per il danno letale di Atomino. Io sono contentissimo di questa serie perché ho visto TFT modalità torneo at its finest. Mazzi che hanno decisamente preso una direzione diversa rispetto al top metagame da ladder. Sono stato contentissimo di avere uno scorcio su quello che mi aspetto essere il competitivo, l'e-sport di Legends of Runeterra del futuro. Assolutamente, che è qualcosa di molto molto diverso dalla semplice solo Q. Schierare la bellezza di tre mazzi con la possibilità di un ban è qualcosa che richiede skill di building. Buildare una line-up è molto diverso da giocare. Stiamo vedendo un ottimo livello di gioco, quello è assolutamente innegabile fin dagli ottavi. Non saprei dire se me lo sarei aspettato prima di effettivamente essere qua a vederlo e commentarlo con te. Ma sia le line-up che il livello di gioco, che le scelte tecniche che vengono fatte sono di un ottimo livello. Stiamo vedendo appunto, come hai analizzato anche tu, la bellezza di tre partite, tre serie su quattro, arrivare alla terza partita per sancire il vincitore. Quindi comunque tutto molto combattuto fin dalle primissime fasi che dovrebbero essere, almeno teoricamente, quelle meno avvincenti. Perché man mano che andremo a scremare i giocatori con le prossime settimane, avremo solo che del livello migliore, molto probabilmente. Sono d'accordissimo, sono anch'io piacevolmente sorpreso non solo del livello dei giocatori, ma dell'audacia nel portare line-up che sono line-up da torneo e non a cozzagli di top tier da ladder. Coraggio, skill, preparazione, l'evento sta venendo decisamente onorato dai partecipanti a queste ottavi di finale. E dunque, se la regia mi dà il via libera, mi avvierei verso la chiusura al rimandarvi all'appuntamento di settimana prossima, sempre qua con Soul. Patch permettendo Soul, perché dovrebbe essere proprio il martedì che segue a questo, quello in cui la patch hitterà con un sacco di novità, mi auspico. Visto che la scorsa patch è stata prevalentemente di bug fixing e noi giocatori vogliamo invece i nerf, i buff. Esatto, vogliamo le modifiche al metagame che andranno a colpire le liste che occuperanno questo torneo. Certo è che andranno a bersagliare tutti quanti, indipendentemente da cosa hanno portato. E non solo, ricordiamo, essendo le liste al buio, quindi nonostante arriveranno dei buff e dei nerf, tu sarai sempre comunque della possibilità di cambiare le carte all'interno dei tuoi mazzi della line-up, sempre che tu non vada a toccare le regioni che hai deciso di portare. E dunque Soul, è stato un enorme piacere ancora una volta essere qui al Castingnes con te. Il livello è alto, non posso che essere entusiasta di affacciarmi alla settimana che verrà, con possibilità di giocare all'interno di una nuova patch, chi lo sa. Tenetevi in contatto con i social di PG Esports, naturalmente lasciate il follow al canale per sapere quando andremo live. Ci vediamo settimana prossima, lunedì e martedì. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie.